Amici ma soprattutto amici bianconeri buonasera Questo cos'era questo? Questo era il culo Il culo che ha fatto fare queste 14 partite utili e consecutive Seguendo il ragionamento di questi 4 incompetenti che vogliono parlare di calcio Seguendo il ragionamento di questi 4 incompetenti Di questi 4 incompetenti glielo ho detto in tutte le lingue Glielo ho detto in tutte le salse, glielo ho detto in tutti i modi Questo non è un allenatore Questo non è un allenatore Non è un presidente Non è un presidente Glielo ho detto in tutti i modi Glielo ho detto in tutti i modi E mi dicono a me Mi dicono a me Non devi fare Non ti permette Lo sfottò si fa Lo sfottò Quindi sono usciti con l'Inter Con il Liverpool sono usciti Con il Liverpool Sono usciti con il Liverpool Noi siamo usciti contro la squadra più scassa d'Europa Appallonati E non si permette a nessuno di dire che nel primo tempo siamo stati sfortunati Non si permette a nessuno di dirlo Incompetenti 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 Mi avete fatto incendiare la Nati Arena e mi avete fatto incendiare L'unica cosa che voglio E' soltanto una Che questo presidente sentiva andare Presidente In futuro E subito sentiva andare questo allenatore Mi aspetto le dimissioni in conferenza stampa Me le aspetto subito queste dimissioni subito Se sei un uomo Te devi andare subito Uomo Subito Hai fallito su tutta la linea Uno che sta due anni fermo E non prende neanche un libro di calcio Non lo prendi Non lo conosci Non lo conosci Non lo conosci Vieni qui con la spocchia Lo porta da Mediaset Lo porta da Sky Gli fa fare la scena Sky Gli fa fare la scena Gli fa fare l'overture Gli fa fare l'overture Gli fa fare Parlando di calcio Parlando Vergogna 100 milioni di spese per Vlaovic A Sarri Neanche la carta igienica Vero il culo Gli avete comprato Neanche la carta igienica Gli avete comprato 100 milioni Per uscire A pesce in faccia Te ne devi andare Te ne devi andare Obbligo categorico assoluto Te ne devi andare Te ne devi andare Verdoña Vosti cingattati Fino alla fine di vostro aiuto Vosti cingattati